carissimi amici elabori studio ben trovati anche se sul web ma come dire facciamoci forza dai coraggio detto questo la lezione di oggi sarà un mio cavallo di battaglia sulla mobilità muscolare useremo un attrezzo attrezzo più umile la bacchetta voodipol asse legno tutto quello che accadrà sarà soltanto mobilità articolare flessibilità e resistenza muscolare bene buona lezione andiamo a iniziare le gambe leggermente divaricate l'impugnatura abbastanza ampia le spalle basse il collo lungo il mento alto la schiena dritta lo sguardo in avanti attività mobilità assiale la testa in basso 1 2 3 4 destra sinistra 1 2 3 recliniamo laterale 1 2 3 mezzaluna dal basso a destra dal basso cerchio completo in 4 in 3 in 2 cambio il senso del giro in 4 in 3 in 2 passiamo alle spalle dietro 2 3 in avanti 1 2 piccoli movimenti 3 scrolliamo in alto 4 3 2 singolo ed alternato 4 3 2 flessione distensione verso l'alto fletto spingo fletto gomiti su fletto spingo fletto gomiti su fletto spingo fletto gomiti su attenzione ragazzi oscillazioni guardo a destra 1 e 2 e 1 e due cerchi completi da destra da destra inspirando 2 cerchi completi da sinistra inspirando bene mani avanti scaldo i polsi 4 3 2 gomiti dietro strizza le scapole 4 3 2 trazioni alla nuca in 4 1 2 3 3 4 1 2 3 ancora 2 1 2 3 4 1 2 la maggioretta destra incrocia comprimi laterale laterale stop appoggiati alle cosce mento alto schiena dritta inspira retrae l'ombelico mento allo espira espira allunga il mento allontana il coccigeniero ispira retrae l'ombelico mento alla gola espira guarda in avanti spalla opposta al ginocchio torsione a destra twist cambio spalla opposta al ginocchio torsione a sinistra twist ritornando non lascio la bacchetta arrivo alle caviglie e snocciolo la schiena la lombare la dorsale il tratto cervicale guardo avanti swing proprio alzate il tallone spingete andate in torsione contraete gli addominali non fate arco lombare espira quando rotei espira 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 ok ispirando braccia al cielo la bandiera espira flessione laterale ispira torna su espirando a sinistra flessione laterale ispirando torna appoggiando la bacchetta va in flessione alla tua destra solo la testa guardo in alto uno guardo in basso due guardo in alto tre e guardi in basso quattro torno al centro cambio lato vado in flessione a sinistra guardo in alto uno guardo in basso due guardo in alto tre torno in basso quattro riallineando good morning guardo in basso schiena dritta ispiro torno al centro guardo in basso schiena dritta mantenete le ginocchia leggermente plesse ritorno al centro ancora dopo vado avanti schiena dritta mento lungo torno al centro ultima volta pletti il busto in avanti addome retratto schiena dritta collo lungo ritorna libera bacchetta braccio destro dietro dietro rotazioni dietro la nuca ancora dietro dietro cambio il senso del giro controllato il movimento ispirando 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 circonduzioni scapolomerali ispira al corcice ispira al bacino 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 spingi il braccio destro in diagonale pettorale deltoide bicipite cambio spingi il braccio sinistro braccio destro dietro dietro la nuca mantieni stira il peccorale mento sulla spalla sinistra cambio braccio dietro in diagonale mento sulla spalla destra e riporto rotazione dietro nuca flessione frontale rotazione flessione frontale rotazione flessione frontale rotazione resto in basso mento alla gola snocciolo la schiena bombare dorsale cervicale ripeto sinistra flessione ispira flessione ispira flessione attenti ispira lascio tutto quanto giù mento alla gola snocciolo la schiena ispira braccio al cielo ispira latero flessione guardo in alto guancia al braccio diritto cambio ispira latero flessione mento in alto e completando rialligio culo e braccia palù pacienza frontale arrotondo la schiena mento alla gola spingo per bene ispiro alzo il braccio destro incrocio il braccio diritto ispiro vado sotto guardo sotto spingo dentro ispiro vado in alto flessione laterale ispiro cambio lato braccio ispiro latero flessione rialligio spingo dentro guardo sotto ispiro alzo braccio allungo laterale ispiro mi allungo in avanti tengo la colonna vertebrale dritta duca collo colonna vertebrale crea un'unica linea contraggo gli addominali arrotondo la lombare estendo allungo la zona lombare arrotondo la lombare ed estendo piegando le ginocca e stringendo il mento al petto nocciolo la schiena o la vertebra per volta chiudo le gambe poggio la bacchetta a terra e vado a scaricare le ginocca e ispirando mani al cielo ispirando mani al centro ispirando mani avanti ispirando unisco strizzando i peccorali ispirando mani al cielo ispirando unisco le scapole distendendo i palmi indietro guardo in su contrai gli addominali ispirando i palmi in su spingi per bene i pollici dietro ripeto contrai spalle alte ispira ritorna guarda il cielo ispira mani avanti incrocia le dita testa tra le braccia metto allo sterno completiamo ispira braccia su spingi i palmi ispira ispira torna al centro attenzione perché recuperiamo nuovamente la bacchetta e quindi libera le mani ruota le scapole inarca la schiena e allungandoti in avanti proviamo a recuperare la bacchetta eccola che arriva nocciolo la schiena che meraviglia bacchetta alla nostra sinistra ma la fianco mobilità articolare pressione al petto 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6 2 7 2 apre chiudo alta 1 chiudo 2 chiudo 3 chiudo 4 chiudo 5 chiudo 6 chiudo 7 chiudo 8 4, 3, 2, cambio il senso del giro, 4, 3, 2, 1, tallone al ruoto, prendo la caviglia, piego la base, guardo in basso, allontano le pernette e ritorno, caviglia sulla porta, domito in appoggio, mano alla caviglia, apro bene l'anca. E ritorno, chiudo gamba, scampio lato, tutto sinistra, mano spianco, spalle basse, tiro fu, il ginocchio sinistro, al tempo, 8, 2, 7, 2, 6, 2, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 morate, apri, ancora 4, apri, apri, 4 circonduzioni a sinistra, 4, 3, 2, cambio il senso del giro, 4, 3, 2, stop con la mano, aggancio la camiglia, tallone al top, leggo la gamba di base, spingo indietro il ginocchio, ricordo il cu, camiglia con la boccia, mano, volito a avanti, mantieni 4, 3, 2, 1, ritorni, chiudi, punta a destra, braccio indietro, coverman, 1, 2, 3, 4, 5, estensioni della sconda, non pare, 8, sconda 8, andiamo all'ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, porta sul ginocchio, troca la camiglia, mano sulla boccia, bella attenzione, mantieni 4, 3, 2, 1, e ritorno, cambio lato, bacchetta, punta, braccio, estensioni, superman, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, ancora 7, e 6, ancora 8, 8, 8, 8, 7, 8, 6, 5, 6, 4, 3, 2, 8, crabio, 1, 2, 1, 2, 1, Bella posizione, manchie di 4, 3, 2, 1, ritorno, giù, banchetta in retta a sinistra, divaricando la gamba destra, articolazione, torto, flessione, planta, flessione, divarico, 1, flex, 1, flex, 1, flex, 1, flex, muovo la caviglia, prendo punta, 1, flex, ancora 1, stava e 1, flex, 1, flex, 1, flex, 1, flex, 4, ultimi, 4, 3, 2, 1, in occhio fu, prendo la caviglia, rovio verso l'esterno, cambio, rovio verso l'interno, comprimo con decisione, in fronte, all'opo, streghi, E ritorno, cambio, cambio, mano a fianco, lavoro, caviglia e 1, flex, 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 ancora 1, stava, 2, 2, 2, 2, 2, 1, planta, flessione, La mobilità articolare, per l'articolazione di più tassica, unita a mobilità articolare in posto femorale, bene, e dopo, pronazione, ruote verso l'interno, scubinazione, ruote all'interno, lancia, compressione, flessore dell'asta, estendi, gestione della sattarata, bucati per me, vieni a cellare l'estato ulteriore, e riporti, libera le gambe, banchetta a puntare, muoviamo le capiglie, ranne, destra, desti, 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 schiena dritta, spalle basse, piccolo plie, demi plie, non è uno fuoco, dentine d'Achille, leggere pressioni, le ginocchia si baciano, fletti in basso, fletti in basso, e adesso, releve, tira su, lavora molto sull'avant piede, spinge anche il quinto dito, non lasciare il quinto dito su, spingi, tieni gli addominali, il peso avanti, ancora, sette, ripeto, runner, e, desti, 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 andiamo a terminare, abbiamo scaldato per bene le articolazioni, degli atti inferiori, e completiamo, così, stretch, allungati per bene, testa bassa, attenti, piegando il ginocchio sinistro, alza il braccio destro, guarda in alto a destra, cambio, piegando il ginocchio destro, alza il braccio sinistro, guarda in alto, spingi indietro l'anca, ritornando, scendi, 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 allungati per bene, testa bassa, schiena dritta, mantieni, perfetto, ritornando con dolcezza, recuperiamo la bacchetta, bene, mettiamo un po' di birra alle gambe, facciamo un po' di fondamentali, degli stacchi da terra, piccoli squat, ma tutto con molta grazia, con molta leggerezza, gambe aperte, squat, inspira, espira, espira, andate su con le braccia, inspira, espira, inspira, espira, ancora quattro, in, s, in, s, in, s, molto semplice, in, s, incrociamo la gamba destra davanti alla sinistra, faremo degli stacchi a 90 gradi, busto avanti, e, in, s, in, s, guarda cosa faccio col petto, s, spingo bene, in, s, in, s, attenzione, in, s, inspirando braccia su, attenta, appoggia la caviglia sulla coscia, facendo una bandiera alla tua sinistra, apri bene l'anca destra, tieni quattro, tieni tre, tieni duro, tieni uno, giù, release, bene, incrocio la gamba sinistra, ricordo che tutti gli esercizi sono bilaterali, tutto quello che faccio da un lato verrà ripetuto dall'altro, sempre con le stesse ripetizioni, flessione a 90 gradi, al tempo, via, in, s, 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 vogliamo una schiena giovane? Dobbiamo fare le pressioni davanti, questo è risaputo, s, inspirando sulle braccia, appoggiamo il tallone, ora facendo una leggera pressione, il tallone va in bella apertura, mantenete quattro, mantenete tre, due, bravi, uno, release, libera tutto quanto, bene, sciogliamo un po' le gambe, perché adesso andremo a lavorare sugli affondi frontali alternati, con le braccia ferme sopra il capo, porteremo in avanti alternatamente, piede destro, piede sinistro, via, 1, affonda, ritorna, cambio, 2, affonda, ritorna, cambio, 3, affonda, ritorna, cambio, 4, affonda, ritorna, ancora, 5, affonda, ritorna, cambio, 6, affonda, ritorna, cambio, 7, affonda, ritorna, cambio, 8, affonda, le mani vanno avanti, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, ancora quattro, destra, sinistra, destra, sinistra, occhio ragazzi, destra, sinistra, destra e sinistra giù le mani portando la punta del piede destra dietro guardate porto le mani avanti quando piego le gambe rotio il busto ritornando al centro tiro a bouchon il cava tap solo otto in es in es tre es quattro es cinque es sei es sette es otto ritorno chiudo gamba stabilizzo mi riposo poggio l'arco sinistro braccia frontale tranquillità al piegamento la torsione alla tua destra in es in es in es in es in es in es ancora due in es ne manca uno in es chiudo inspira alziamo le ginocchia portando destra sinistra destra sinistra destra quando spingi in basso le spalle spingono giù lavorate i pettorali lavorate i deltoidi tenete le spalle basse il collo lungo il metto alto la schiena dritta lo guardo sempre frontale al tuo orizzonte non guardare a terra ti vedo eh in es in es in es vamo a terminare in es giù le braccia allasciamo la bacchietta per qualche secondo ai nostri piedi apriamo un po' le gambe con le punte frontali facciamo un po' di sega l'esercizio più semplice del mondo facendo una torsione sulla caviglia opposta quando sali con tre il gluteo espirando mano sulla caviglia opposta ritorna al centro con tre il gluteo espirando tre due uno inspira espira inspira espira inspira espira inspira ora quattro raga inspira espira inspira espira inspira espira inspira più di laterale laterale piccoli movimenti laterale non affondate troppo laterale scaldate bene le anche portate il ginocchio verso l'esterno non cadete in avanti col ginocchio spingete verso secondo dito non sull'alluce spingete lateralmente spingi aprendo le ginocchia allineate attenti dritta la schiena touch tocca tocca ancora tocca piccoli movimenti tocca 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 e sto ritorna ora chiudiamo le gambe leggermente più ampie del nostro bacino ma poco eh rotiamo le punte verso l'esterno andiamo in un bel affondo apriamo le braccia tallone destro su destro sinistro facile facile destro sinistro vedi destro sinistro vediamo destro un esercizio di coordinazione vediamo se ci riusciamo scendendo in basso partiamo da sinistra facile facile si de si de si de entrati 8 7 6 5 mani forti 4 spalle schiena dritta 3 2 1 ripeto alza le braccia mantieni per 4 mantieni per 3 per 2 per 1 apri appoggia distendi chiudi punte talloni punte talloni so con la mano destra aggancia la caviglia tallone al gluteo eccoci qua cambio con la mano sinistra aggancia la caviglia tallone al gluteo tira per bene il quadricipita avvicina per bene non forzare l'articolazione del ginocchio bene ritorno il tallone destro avanti con la punta ben alta incassa bene l'anca dritto il bacino allungati in avanti senti il femorale che va in distensione e ritorna stesso lavoro dall'altro lato poggiami il tallone incassa bene l'anca metto alto fai un perno all'anca dritta la schiena allungati in avanti stira per bene il femorale gastrocnemico 4 3 2 e ora ritorniamo bene se avete una bacchetta molto lunga questo idealmente dovresti aprire le gambe quanto la tua bacchetta rodiando la punta del piede verso l'esterno creiamo una sorta di L la punta destra guarda lateralmente la punta sinistra guarda frontalmente aprendo le braccia dei piegamenti laterali simulando le azioni dello yoga gli eroi affonda allunga verso l'interno ispira affonda allunga verso l'esterno ispira ripetiamo affonda allunga verso l'interno ispira allunga affonda verso l'esterno ispira il braccio destro affonda stende affonda distende affonda distende affonda tenendo la gamba stessa appoggiati sulla coscia guarda in alto inarca la schiena è come un tuffo flettendoti in avanti mano alla caviglia guarda in alto apri il torace riallineando la posizione e affondando frontalmente incrocia le dita tetta tra le braccia guarda in basso tieni 4 tieni 3 2 1 mani in basso ispira chiudi punta ispira apri l'altra ripetiamo ispira vado interno ispira torno al centro ispira vado esterno ispira torno al centro ispira vado interno ispira torno al centro ispira vai all'interno ispira torno al centro braccio destro 1 torna su affonda 2 torna su affonda 3, torna su, affonda 4, gambe stesse, vai in appoggio, in arca la schiena, guarda in alto come un tuffo, espira, mano alla capiglia, guardo su, apro bene il torace, dovrai sentire leggermente l'adduttore sinistro, bene, ultimo ma non per ultimo, riallinio, affondo, incrocio, testa tra le braccia, tieni 4, tieni 3, 2, 1, giù le mani, stendi, chiudi punta, inspira, mani ai glutei, arco indietro, in arca per bene la schiena, espira, flessione in avanti, dritta la schiena, scivola, mani alle capiglie, guarda in basso, torsione alla gamba destra, 1, cambio, torsione alla gamba sinistra, 2, torna, mani a terra, affondando sulla gamba sinistra, rotia la punta destra, tiro su, vediamo, fammi vedere come stai tirando, cambio, affonda sulla gamba, alzo su, tira per bene, fammi vedere come allunghi bene l'adduttore lungo e ritorna, appoggia, piega gambe, mani alle ginocchia, scarica la schiena, allunga la colonna, occhio, appoggia il gomito sinistro, stendi la gamba destra, inspira, apri torace, espira, torna al centro, inspira, apri torace, espira, torna al centro, mantieni la posizione, mani alle capiglie, gomiti all'interno, delle piccole oscillazioni, laterali, 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 mani a terra, stendi gambe, chiudi punte, talloni, punte, talloni, aggancia le caviglie, inspira, piega la gamba sinistra, alza il braccio destro, guarda in su, espira, inspira, alza il braccio opposto, guarda in su, espira, prendi i gomiti, fai delle leggere oscillazioni del tronco, alternate all'esterno del ginocchio opposto, bene, lascia le mani pendule, stringi il mento alla gola, snocciola la schiena, inspira, mani dietro, in arca, espira, appunto avanti, arrotola, ripeti, snocciola la schiena, mani dietro, inspira, in arca, espira, arrotola, ultimo ma non per ultimo, snocciola la schiena, inspira, mani al cielo, espira, mani in basso, giù, molto bene. Adesso ragazzi, dopo aver fatto la parte di attivazione e riscaldamento, con l'aiuto della bacchetta, faremo degli esercizi di equilibrio, bene, appoggiamo la bacchetta alla nostra destra, appoggiamo dietro la punta del piede destro, bene, quando vengo avanti, mano sul ginocchio, quando vado indietro, affondo e vengo su, proviamo, e 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, spingendo al peggio, alzo il braccio lateralmente, con una bilancia, quando mi allungo in avanti, stendo la gamba indietro, via, allungo 1, torno su, allunga 2, torna su, allunga 3, torna su, allunga 4, torna su, allunga 5, torna su, ancora 1, allunga 6, ritorna su, mano avanti, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, tutto a sinistra, vediamo se ricordiamo la sequenza, appoggiando la punta del piede, allunghiamo il braccio, con la mano tocchiamo il ginocchio, col braccio ci allunghiamo facendo un affondo, 6, 7, 8, via, tocco, appoggio, spingo, su, tocco, appoggio, spingo, su, tocco, appoggio, spingo, appoggio, spingo, ancora qua, tocco, appoggio, spingo, fai attenzione, tocco, appoggio, spingo, ancora 2, tocco, appoggio, spingo, vengo su, tocco, appoggio, spingo, vengo su, mantenendo la posizione, alzo il braccio, come una bilancia, mi allungo distendendo, 6 volte, inspira, espira, 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 ultimo, ispira, ed espira, giù, va bene così, apriamo le gambe, teniamole leggermente divaricate, ultimo esercizio, le braccia sopra, quando vado dietro, guardo in basso, quando ritorno, guardo avanti, in basso, in avanti, in basso, in avanti, in basso, in avanti, guarda le braccia, in basso, in avanti, vai over, in basso, in avanti, mobilità delle scapole, in basso, in avanti, bravi, in basso, in avanti, vedo lo fate, in basso, in avanti, braccia giù, scivolo, guarda, bacchetta ai piedi, mani alle ginocchia, questo è facile, è un bounce, piccoli molleggi, quando tocco, molleggio con le gambe, e tocco, su, tocco, su, tocco, su, tocco, su, tocco, su, tocco, su, tocco, non mollare, non fermarti, forza dai, tocca, su, tocca, su, tocca, su, tocca, su, tocca, su, rimani giù, mani alle caviglie, guarda su, mantieni la postura, per 4, per 3, per 2, andiamo a terminare, mani avanti, apri, spingi dietro, torna avanti, spingi dietro, torna avanti, ultimo, spingi dietro, chi se la sente, gomiti giù, 4 tempi, 3 tempi, 2 tempi, 1 tempo, mani avanti, chiudo, talloni, punte, talloni, punte, talloni, punte, rimango giù, occhio, gamba destra, 1, ispira, braccio su, guarda il cielo, espira, torna, la sinistra, 1, ispira, braccio destro, guarda su, guarda il cielo, espira, giù, chiudi, prendi la bacchetta, snocciola la schiena, ispira, grande cerchio, espira, tuffo avanti, srotola, 5, 6, 7, ancora, ispira, braccio dietro, espira, lungo avanti, srotola, 5, 6, 7, ultima volta, attenzione, la bacchetta resta giù, ispira, ispira, la bacchetta resta giù, aggancia le caviglie, pronte alle ginocchia, fammi vedere, sto guardando te, sto guardando te, pronte alle ginocchia, ginocchia un po' flesse, pancino sulle cosce, tira per bene, sei caldo, lo puoi fare, 4, 3, 2, stop, snocciola la schiena, ispira, le mani salgono, ispira, le mani scendono, braccio destro avanti, gira la testa, ispira, braccio sinistro avanti, gira la testa, ispira, mano destra dietro, mano sinistra al capo, ispira, ritorna, ispira, mano sinistra dietro, mano destra, scapo, ispira, ritorna, giù le mani, ispira, alza le braccia, ispira, aprendo le mani, spingi il petto avanti, tira per bene, andiamo a completare, allungati verso destra, stira il dorsale sinistro, contrae gli addominali, lavora gli obliqui, scendi con le mani verso il basso, comprimi più che puoi, ispira, ritorna, apri il braccio, torna al centro, ripeto, mano sinistra verso sinistra, spingo di lato, comprimo verso il basso, schiaccio per bene l'obliquo, sento la contrazione anche del trasverso, ritorno, apro il braccio, torno al centro, la mano destra viene avanti, la mano sinistra viene sotto, incrociando, ragazzi prendete il pollice, vedete, pollice, primo una leggera torsione, mento sulla spalla destra e questo è facile, ritornando al centro, una estensione, ispirando, torna su, per completare una flessione, i gomiti all'addome, facile, facile, e ritorna, lasciami il pollice, ispira le braccia, salgo, ispira le mani, si incrociano nuovamente con la gatto, il braccio destro, questa volta prendendo sempre il pollice, e lo stesso braccio, eh raga, spingi giù, guarda me, guarda come tiro con decisione, e ritorno, giù, ispira, le mani scendono, giù, vediamo se abbiamo capito, braccio sinistro, incrocio il destro, prendo il pollice, prima una bella torsione, mento sulla spalla, bravi, ritornando, una estensione, vado indietro, e questo è facile, è facile, completiamo, giù, andiamo in basso, contraiamo per bene, ritornando, guarda, lascio il pollice, ispira, le mani salgono, ispira, reincrocio, hop, tiro giù, che meraviglia, e ritorno, su, ispira, mani giù, attenzione a questo stretch, mano destra alla nuca, prendi il gomito, e spingilo verso l'interno, fai una leggera torsione, bene, questo è il più classico degli stretch, porta la mano dietro tra le scapole, e dal basso, prova a incrociare le dita delle mani, 4, 3, 2, 1, e release, vediamo dall'altro lato, proviamo anche dall'altro lato, la diretta, la diretta, bene, mettiamo la mano sinistra al capo, prendiamo il gomito e spingiamo verso il basso, ci siamo fino a qui, poi ritornando, portami la mano tra le scapole, e questo è il più classico degli stretch, la mano fa una circonduzione e incrociando le dita, guardami, 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 vedi, le dita sono incrociate, provate a spingere per bene, ci siamo, scusate le spalle, ma è sempre meglio della faccia, lo so, lo so, state dicendo questo, bene, è libero tutto quanto, completiamo, ultimo stretching, così si va via, avete mai visto la posizione della giara? appoggiate le mani sui fianchi così, guarda cosa fa la mano sinistra, prende il gomito destro e lo tira all'interno, sembra una stupidata, sì, ma qui stiamo lavorando la cuffia del rodatore, questo è importante, 4, 3, 2, 1, e giù, cambio, la giara, meraviglia, prendo il gomito, spingo all'interno, 4, 3, 2, 1, ultimo, ritorno, giù le mani, inspira, le mani salgono, espira, le mani scendono, roto le scapole, porto sulle braccia, ho una grande palla, portando il braccio sinistro, spingo per bene l'anca sinistra esternamente, comprimo la linea scellare, ma stiro per bene l'obliquo opposto, inspira, vieni su, espira, via dall'altro lato, spingete per bene, allungatevi, allontanatevi, bene, siccome vi conosco e so che molti di voi un po' di cervicalgia ce l'ha, lascio la testa indietro, spingo le mani su, piegando leggermente le ginocchia, torno con lo sguardo, mani alla nuca, mento alla gola, spingo per bene, vi conosco eh, e ritornando, alzo le braccia, giro lo sguardo a destra, uno, cambio lato, giro lo sguardo a sinistra, due, e ritornando, salutandovi, mani dietro, mento alla gola, rotio, quattro, tre, due, cambio, quattro, tre, due, stop, inspira le mani salgono, espira le mani scendono, inspira le mani salgono, espira le mani scendono, ragazzi per me oggi può bastare, vi ringrazio tantissimo, spero di vedervi al più presto dal vivo, comunque tutto questo lo facciamo, se possiamo, la mattina al risveglio vedrete che, che forza, ciao ragazzi, grazie! Grazie